Se parliamo di diritti negati ai popoli medio orientali, penso che il diritto più importante in termini di nostra concezione politica classica occidentale sia il diritto alla vita, nel senso che nel medio oriente ci sono aperti una serie di conflitti estremamente violenti in cui negli ultimi anni sono morte centinaia di miliardi di persone e milioni e milioni di persone sono trovate costrette a dover fuggire alle proprie case. Parliamo per esempio della Siria, in Siria abitano 21 milioni di persone, di questi 6 milioni sono rifugiati all'interno del loro paese, hanno dovuto spostarsi le loro case in altre zone del paese per la guerra, 5 e mezzo sono andati fuori all'estero come profughi, 400-500 mila sono morti, quindi prendete conto e parliamo di numeri pesantissimi. In Yemen, altro paese, paese che tra l'altro è molto popolato, adesso non mi ricordo esattamente in termini tant'ia, ma è molto popoloso, c'è una guerra che passa molto sotto silenzio negli ultimi anni in cui sono stati 100 mila morti soltanto per il conflitto e più o meno altrettanti di epidemie, colera, carestie, quindi ci troviamo proprio in situazioni. In Libia è difficile anche capire effettivamente quale sia la situazione sul terreno, l'Iraq adesso sembra relativamente stabilizzato, ma parliamo di un paese in cui dal 2002 all'altro ieri, fondamentalmente, al 2018-2019, tra l'invasione americana, la rivolta contro l'invasione americana, gli sconti tra Asciti e Sunniti, l'ascesa dell'ISIS, sono stati vent'anni di guerra interrotta, con anche qui probabilmente qualche milione di morti. Quindi probabilmente il primo diritto e il più importante diritto negato ai propri meridionali è quello alla vita, nella concezione classica che abbiamo noi occidentali, il liberalismo politico di Locke, insomma i fondamenti e pensieri politici occidentali partono dal diritto alla vita, alla libertà e alla proprietà. La vita, che è quello cardine, in Medio Oriente è un diritto molto cheap, molto a buon mercato.